Questo accordo è un momento importante di vicinanza tra la banca e l'associazione confartigiannato del Piemonte Nord Orientale, così come del consorzio Italy Export e rispetto a tanti altri accordi in cui prima si firmano le intese e poi dopo si va sul campo a cercare di realizzarlo, in questo caso si è seguito il percorso inverso, che testimonia una forte concretezza di azione da parte delle associazioni, così come della banca. Tutto nasce quest'autunno con un supporto da parte della banca ad una missione commerciale negli Emirati Arabi Uniti da parte dell'associazione e un supporto che è chiaramente stato apprezzato. Quindi a valle di questo supporto abbiamo deciso di formalizzare il tipo di assistenza che la nostra banca può dare alla piccola e media impresa del territorio. Assistenza in tema di supporto alla internazionalizzazione, così come secondo me vanno di pari passo i temi delle reti d'impresa, così come dell'innovazione e noi pensiamo di poter fare la differenza da questo punto di vista. Confattigianato Fidi è una realtà, è il quinto Confidi italiano, è una realtà ormai indispensabile per il sostegno delle aziende, soprattutto in questo momento in cui le banche latitano abbastanza nel concedere credito alle nostre piccole e medie aziende. Quindi Confattigianato Fidi è a fianco dei nostri associati, a fianco delle imprese e in collaborazione con Intera San Paolo questa convenzione che stipuliamo e sottoscriviamo questa mattina è penso indispensabile per il futuro della micro e media impresa italiana e per dargli la possibilità di avere uno sbocco a livello internazionale e sicuramente noi abbiamo l'eccellenza all'interno delle nostre aziende necessarie e soprattutto propositive per portare il Made in Italy e i nostri prodotti in tutto il mondo. Abbiamo un'esperienza medio internale e quindi ci siamo potuti permettere con il gruppo San Paolo Intesa di invitarli a uno dei nostri workshop fatti negli Emirati Arabi, quindi a Dubai e a Doha per venire a vedere in vivo la bontà delle nostre richieste. Sono venuti, si sono reso conto che le cose funzionano e funzionano anche bene e quindi ci sono convinti spontaneamente a finanziare e aiutarci in questo nuovo percorso che stiamo continuando a proseguire con le nostre aziende all'estero e oggi è un po' il momento in cui si santisce questo accordo. Noi siamo felici perché abbiamo già collaborato anche con altre banche ma la banca Intesa San Paolo è una banca presente in altri 30 paesi del mondo e sicuramente ci potrà essere di molto aiuto.